Rete Energia è una cooperativa che nasce nel 2008 con l'esigenza di mettere a fattor comune la necessità di più persone di impegnarsi nello sviluppo delle energie rinnovabili. In sostanza il tema era io voglio fare qualcosa rispetto all'energia ma non è detto che abbia un tetto su cui fare un impianto fotovoltaico o altro. E poi non lo voglio fare da solo, lo voglio fare con altri. Quindi oggi Rete Energia è una società cooperativa che conta oltre 900 soci che insieme si impegnano su progetti di produzione di energie da fonte rinnovabile ma anche progetti di efficientamento energetico. Per lo più partecipati da un punto di vista anche economico. Gli impianti attualmente installati coprono il fabbisogno annuo di circa 700 persone e si trovano localizzati su edifici pubblici, scuole e aziende agricole. L'idea che noi vogliamo far passare è che nell'energia come in agricoltura bisogna raggiungere la sovranità, ovvero reimpossessarsi. Così come dobbiamo avere la sovranità alimentare, cioè la certezza del fatto che possiamo sfamarci, noi dobbiamo raggiungere anche la sovranità energetica, ovvero la possibilità di controllare noi stessi l'energia e naturalmente a questo punto produrla anche nella maniera più pulita possibile, ben consapevoli del fatto che la produzione di energia ha sempre un impatto. Al di là della caratteristica di pulizia, di rinnovabilità dell'energia, quello che per noi conta è anche una sorta di democratizzazione dell'energia, ovvero l'energia come bene comune, così come l'acqua, deve tornare sotto il controllo dei cittadini. Quindi la nostra idea è che il cittadino deve essere sia produttore che consumatore di energia e controllare tutto il ciclo, in questo modo rendersi conto del fatto che l'energia è una risorsa limitata e quindi automoderarsi anche nei consumi. Come nasce la tua partecipazione a rete energie? Io mi considero un'attivista per caso perché fino al 2011, io vivo alla Spezia, fino al 2011 non mi ero gran che resa conto del fatto che alla Spezia c'è una centrale di Enel che funzionava a carbone, mi ero trasferita lì da una decina d'anni ma insomma io non mi ero accorta di questa cosa. Nel 2011 ho preso coscienza di questo problema e mi sono attivata, abbiamo costituito un comitato che si chiama Spezia e via dal carbone e abbiamo cominciato a lavorare attivamente su questo, insomma ci siamo impegnati veramente molto fino a che una sera stavamo facendo una riunione, è entrato un tizio e ha detto beh ma voi che vi battete giustamente contro il carbone, che cosa state facendo poi d'altro per cambiare le cose? e noi siamo rimasti un po' lì e lui ha detto ad esempio a chi l'ha pagata la bolletta alla fine del mese? Beh è stato un po' come un pugno allo stomaco perché io la bolletta alla fine del mese la pagavo all'Enel, alla stessa Enel che poi di giorno combattevo, tutti i giorni combattevo. Vi dirò di più, io pagavo due euro in più al mese per avere energia rinnovabile, completamente non consapevole del fatto che poi sotto casa quella stessa energia veniva prodotta con il carbone. Quindi a quel punto noi, io e anche altri alla Spezia abbiamo aderito a rete energie, abbiamo cambiato il fornitore, abbiamo scritto Enel, abbiamo detto cara Enel, noi da te l'energia non la compriamo più perché non rispetti quelli che secondo noi sono i canoni minimi per la produzione di energia e quindi quello è stato un secondo passaggio e poi naturalmente la cosa è andata avanti e quindi io personalmente ma anche altri abbiamo cominciato a investire i nostri risparmi in azioni di rete energie per collaborare, per partecipare alla costruzione di impianti di energia rinnovabile, di efficientamento energetico e per insomma creare quella comunità dell'energia che secondo noi è quello che occorre fare per avere il controllo di questa, e dell'energia e delle risorse che vengono utilizzate per produrla.